A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noe. Apriamo con il calcio e con la Lucchese dunque al lavoro anche sotto la pioggia in vista della trasserta di domenico ore 18 e 30 sul campo del lanciatissimo Como, reduce da tre vittorie consecutive, ma anche la squadra di Galderisi ha racimolato sette punti nello stesso periodo. Le partite di allenamento di giovedì e la rifinitura hanno dato anche qualche indicazione sulle intenzioni del tecnico rossonero. A riposo precauzionale Mirko Bruccini, ma il centrocampista Spezzino dovrebbe recuperare, il nano ha fatto capire che sceglierà e concederà fiducia alla squadra che ha battuto 4 a 0 la Lupa Roma. Tra l'altro quello di Como è un campo tabù per la Lucchese che non vi ha mai vinto. Pensate nei nove precedenti, ci sono cinque sconfitte e quattro pareggi. L'ultima volta, Como e Lucchese, si affrontarono l'8 dicembre 2004 e la partita finì 1-1 con gol rosso-nero segnato da Toni Carruezzo. Scendiamo in Serie D, andiamo alla presentazione dell'impegno di domenica del Givi Borgo che dunque torna in casa, beh in casa per modo di dire, a San Giuliano Terme contro il Gavorrano del Condor Bonuccelli. Uscire da una situazione di impasse e di risultati che nelle ultime cinque giornate vedono la squadra in crisi nera. Partito benissimo, 3-1 rifilato al malcapitato Sestri Levante alla prima giornata, il Givi Borgo si è gradualmente smarrito, inanellando e alternando brutte prove ad altre più confortanti, ma accomunate dalla mancanza di punti importanti. Due sono davvero una miseria, probabile che in tale contesto possano inclinarsi determinate convinzioni. In realtà la gara di domenica scorsa a Montecatini, sul campo della capolista del Girone di Serie D, ha proposto un Givi Borgo battagliere ben disposto alla manovra, ma anche sfortunato vede i due legni colpiti che hanno impedito ad Angeli e compagni di tornare dal Mariotti con un pareggio che sarebbe stata moneta perlomeno equa. Ma tant'è, ci sono periodi in cui tutto gira storto, al di là degli evidenti demeriti di una squadra che deve reagire e cui il calendario in questo momento non ha offerto un grosso aiuto. Domenico, ore 15, al bui di San Giuliano Terme sale infatti il Gavorrano, che guarda caso occupa il secondo posto della classifica alle spalle del Montecatini suddetto, insomma dalla padella alla braccia. Ma la squadra di Marmorini, nel frattempo scivolata nei bassi fondi della gradatoria, ha carattere e potenzialità tali per giocarsela anche contro la formazione maremmana, guidata dal Condor Bonuccelli e che sarà priva del suo bomber principe Cristian Brega, piedato dal giudice sportivo per tre giornate. Dall'altra parte anche il Giriborgo deve ancora fare a meno di Paccagnini, sempre per squalifica. Il pallone racconta che nello scorso campionato il Gavorrano giocò un brutto scherzo alla squadra allora allenata da Pacifico Fanani, passando per 2-1 al Porta Elisa di Lucca. Era il 10 gennaio e successe tutto nell'ultimo quarto d'ora. Rossobluma Remmani avanti con Lombardi e raggiunti pochi minuti dopo dalla rete firmata da Biagio Pagana. Ma al novantesimo, proprio allo scadere, fu Conti con un Eurogol a consegnare tre punti al Gavorrano su un piatto d'argento. Abbiamo arbitri e squalificati per la Serie D. Allora gli arbitri di domenica, settima di andata, Giviborgo Gavorrano, Stefano Belfiore di Parma, Ponsacco Viareggio sarà arbitrata da Gianluca Sili di Viterbo e al Forte Quercetta Montecatini-Valdinievole, che è il match clou della giornata, da Alessio Clerico di Torino. Squalificati, lo dicevamo già nel servizio, tre giornate a Brega del Gavorrano e a Fayet della Fezzanese, due giornate a Palumbo dell'Unione Sanremo. Sempre per quanto riguarda la Serie D, prima di passare alla Coppa Carnevale, vi ricordo che sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale. Le partite si giocheranno in gara unica a mercoledì 26 ottobre alle ore 15. Per quanto riguarda le nostre squadre, gli accoppiamenti sono questi, Viareggio-Unione Sanremo e Montecatini-Giviborgo. Conferenza stampa nella sede del Centro Giovani Calciatori Viareggio sulla Coppa Carnevale 2017. Stabilite e fissate già le date della 69esima edizione della Viareggio Cup, dal 13 al 29 marzo 2017. L'età minima dei partecipanti nei nati 1998 fino al 15esimo anno di età, con quattro fuori quota del 1997. Un'edizione ancora una volta importante e interessante con l'incognita del manto erboso dello Stadio dei Pini a causa della mancata semina in questo periodo per i problemi societari del Viareggio Calcio. A tal proposito il Presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi lancia un messaggio all'imprenditoria Viareggine e anche degli alberghi per in qualche modo intervenire per la semina del campo e evitare il possibile rischio dell'emigrazione della finale fuori dalla città di Viareggio. Il Presidente Palagi annuncia quelle che sono le novità in più di questa manifestazione. Scavaccherà il Carnevale e si farà nel periodo fra il Carnevale e la Pasqua, cioè dal 13 al 29 di marzo, nel periodo in cui è fermo il campionato primavera nazionale. La possibilità è quella di uno ritorno a 40 squadre? Sì, la volontà del Consiglio Direttivo è quella di partire da 32 ma cercare di tornare a 40 squadre. Migliori squadri italiani presenti però c'è qualche novità addirittura richiesta anche dall'Africa? Sì, abbiamo una richiesta altissima da parte di squadre africane e come dicevo in conferenza potremmo fare la Coppa d'Africa invece della Coppa Carnevale. Passiamo all'Atletica. La consegna di due assegni da 500 euro per un totale di 1000 euro alle popolazioni terremotate è stato uno dei momenti più significativi della presentazione della serie di eventi che il Lucca Marathon ha organizzato per l'edizione 2016, l'ottava della storia della Maratona di Lucca. Il momento clu domenica 23 ottobre alle 9 con la partenza dalla zona di Porta Santa Maria appunto della Maratona, della 30 km e della Lucchesina. Per primi partiranno gli atleti in handbike che parteciperanno a questa giornata di festa. Il sabato invece sarà riservata ai bambini e agli amanti degli animali. Abbiamo visto appunto alcune fasi della presentazione con il presidente Moreno Pagnini che avremo la prossima settimana ospite di A Tempo di Atletica. Siamo al basket perché finalmente si gioca questa partita tra la Diche Napoli e il Gesam Lucca. Vediamo. Finalmente il Gesam Lemura Lucca torna a calcare un campo da gioco sabato alle 18 sul parquet del palazzetto dello sport Enrico Di Pozzuoli per il recupero della partita valida per la seconda giornata di andata contro la Saces Mappei di A Tempo di Atletica. Settimana quanto meno inusuale per la squadra lucchese che dopo il rinvio improvviso di sabato scorso è tornata al lavoro per ritrovare la giusta concentrazione in vista di un match importante è consapevole che già il mercoledì successivo sarà nuovamente in campo al pala tagliate nel posticipo contro Torino. In questo caso si giocherà alle 20.30. Le assenze per entrambe le formazioni sono le stesse di una settimana fa. Gemelos da parte partenopea, Tognalini da parte lucchese con Napoli che ha avuto qualche giorno in più per assimilare gli schemi di coach Molino, subentrato a Ricchini e ad inserire nelle rotazioni il pivot americano Roshanda Gray, giocatrice già abituata al campionato italiano arrivata una settimana fa. Questo rinvio ci porta a giocare tre sfide molto impegnative in otto giorni, Napoli, Torino, mercoledì sera e la trasferta a Ragusa di domenica prossima. Non sarà facile prepararci al meglio, le parole di coach Diamanti alla vigilia, ma siamo chiamati a fare questo. Sappiamo che contro Napoli sarà una gara difficile, a ciò contribuisce l'assenza di Tognalini, ma noi cercheremo di fare risultato, ha concluso il tecnico, anche perché questo raggiungiamo noi, in caso di vittoria, Lucca gancerebbe a quota 4 le altre grandi del torneo. Dal basket all'hockey si giocano sabato sera alle 20.45 le gare della terza giornata di andata, il Cigici Viareggio ancora alla ricerca della prima vittoria, sarà di scena sulla pista del Cremona con buone chance di rompere il ghiaccio. Gara casalinga per i campioni d'Italia del Forte De Marmi che ricevono il Trissino con l'obiettivo di consolidare il primato, ma vediamo nel dettaglio le gare in programma. Forte De Marmi Trissino, Amatori Lodi Bassano, Cremona Cigici Viareggio, Monza Breganze, Valdagno Correggio, Sarzana Follonica e Sandrigo Giovinazzo. Ricordiamo in classifica, comandano Forte De Marmi e Amatori Lodi con 6 punti, seguite da Breganze e Follonica a 4. I motori di B Motorsport, anche alla gara di Imola, lo scorso weekend ha proseguito il trend positivo nella Coppa Italia di prima divisione. Riccardo De Bellis, il pilota lucchese con la Porsche 997 GT3, ha infatti messo una serie ipoteca sul suo secondo titolo dopo quello 2013. A questo punto al nostro pilota basterà, nell'ultimo appuntamento di Adria del 23 ottobre, basteranno soltanto 3 punti per la matematica certezza di cucirsi di nuovo lo scudetto sulla tute. Avremo De Bellis prossimamente a rombo di motori. La pallavolo esordio casalingo per la pallavolo massa, domenica alle 18, arbitri Fontini e Paolieri, la squadra di Andrea Masini, ospiterà il palasport di Camaiore, Lama, San Martino di Reggio Emilia. Gara delicata, come ogni esordio di campionato, quando non tutti i meccanismi sono ancora perfettamente oliati e quando ci sono solo test amichevoli, a cui fa riferimento, ma la pallavolo massa quest'anno vuole essere davvero nel campionato di B1 maschile assoluta protagonista. Chiudiamo con un lutto in seguito ad una malattia scomparsa Gina Federigi, 65 anni, moglie di Filippo Raffelli, consigliere regionale della FIGC. Lascia il figlio Fabio, il fratello Giuseppe, la sorella Antonietta, il funerale fissato per sabato pomeriggio alle 15.45 nella chiesa di San Termete a Forte dei Marmi, alla famiglia dell'amico Filippo, le più sentite condoglianze da parte di tutto lo staff di Noi TV. È davvero tutto per quanto riguarda la pagina sportiva, io vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento.